Eccomi di nuovo qui da sola, ogni volta che faccio una brutta litigata con William, ma vado a morire ammezzato, non mi accompagna mai. Buonasera, mi scusi, sono sola, William purtroppo non è venuto, che vergogna, abbiamo fatto una brutta litigata. È così, una brutta litigata. Ok, lei deve assolutamente secondare suo marito, perché è l'unica cosa che le possiamo consigliare. Ma voi non potete capire, io sono venuta qui per voi, adesso dovete capire voi a me. Certo, certo, anche lei signora, cerca di capire, non sono. Suo marito deve assolutamente lasciarlo, ecco. Vabbè, come dice lei. Kate, annoia i suoi problemi familiari, ce ne f***o un cazzo. Ecco, vede, io devo tornare a casa adesso a lavare e stirare. Ecco, io capisco, ma cosa le posso dire? Eh sì, devo andare anche a rammentare. Beh, saluti a tutti. Che palle tornare a casa. Che palle, ragà. Mannate pure voi. Eh, Kate qua e Kate là. Due palle adesso a casa, due palle. Che palle. Che palle. Che palle. Che palle. Che palle. Che palle. Grazie a tutti.